Buongiorno, sono le 6.40 di mattina, stiamo partendo in questo momento da Roma. Allora ci sta Lollo che ha scoperto di aver passato un esame, stiamo valutando la possibilità di ritornare a Roma per farvelo fare. Siamo arrivati al taglio fascette. Come i forbici da unghie. Questo è l'università, ora davvero si parte. Guarda come abbiamo legato gli sci. Ragazzi, 8 ore e siamo a Vigo di Fassa. Allora, le chiavi? Buonasera a tutti, benvenuti qua. Ma buonasera, sono le 7. Che cazzo, ricomincia. Taglia. Buonasera. Oggi è una giornata stupenda, siamo in direzione Campitello per dirigerci verso la Sella Ronda. Buonasera. 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 Tu l'ha avviato il video? Quando? All'inizio della pista. Eh, io non l'ho mai preso in mano. Sì. Eh, sì, ma... Sì, ma quello a fare... Mi sa che non ho ripreso, ragà. Tu ti scio accanto, ok? Quindi, stai al centro e mantieni una certa regolarità. Ok, vai Bolo come una era e ughμ Solo say yeah Solo say yeah Bolo come una era e ughμ Volo come un aereo Volo come un aereo